E avrei parlato anche al Partito Democratico, il partito che ho voluto, che ho fondato, per il quale ho corso nel 2009 per la segreteria nazionale, in cui ho creduto e che oggi più mi ha deluso per i comportamenti dei suoi dirigenti, perché ha rinunciato ad agire dentro i confini della democrazia negando il proprio stesso nome, Partito Democratico, e il proprio DNA. Mi chiedo anche, come posso un po'